Ciao amici, ben ritrovati. Siamo giunti all'ultima lezione della seconda parte, praticamente la lezione 13. Oggi andremo a vedere altre casistiche di join, quindi attraverso i filtri andremo a comporre gli altri tipi di join che formano un po' questo grafico che troviamo con Google e che vedevamo anche la scorsa volta. Praticamente cos'è che abbiamo visto nella precedente lezione? L'inner join, che appunto data la tabella A e la tabella B, ci fa vedere che ci riporta solo quello che è appartenente ad entrambe le tabelle e il resto lo va a scartare. Il left join tutto della prima e solo il contenuto della seconda che si parla con la prima e il right join è praticamente il contrario. Oggi andiamo a vedere questi quattro qua, in più vediamo anche il prodotto cartesiano, vediamo che cos'è. Praticamente vedete proprio da questo disegno qua si capisce molto bene che tipo di estrazione di dati vogliamo andare ad ottenere. Allora adesso noi andiamo a fare questo tipo di estrazioni, ricordo sempre che quello di destra praticamente è l'opposto. Allora andiamo a prendere solo la parte della prima tabella dove praticamente le informazioni della seconda non mergiano. Quindi se mergiano le vado ad escludere. Andiamo a fare un esempio pratico. L'ho fatto qui praticamente. Che tipo di query ho fatto? Ho praticamente l'anagrafica e i valori, sempre le due tabelline che avevamo la scorsa volta. Poi qui abbiamo un bel left join, praticamente dall'anagrafica andiamo dentro alla tabella valori. Qui togliamo magari il versato che è un'informazione in più. E qui ci tiriamo giù appunto praticamente le informazioni dalla tabella anagrafica. Poi ci tiriamo giù tutte le informazioni dalla tabella dei valori. Che questo potrebbe essere anche in influente. E qua ci ho messo praticamente vedete un articolo che però arriva dalla tabella valori. Perché nella seconda riga prima abbiamo il nome del campo e qui è da dove arriva quel campo. Quindi abbiamo l'articolo sia sulla tabella anagrafica e l'articolo anche sulla tabella valori. Se io sul campo di join, quindi in questo caso ne ho uno solo, ok? Articolo. Sull'articolo dove è a destra del mio join ci metto isNull come criterio, ok? E ci metto il dove. Ottengo proprio questo tipo di risultato qua. Quindi ottengo che prendo tutti i dati della prima tabella escludendo tutti quelli che non mergono nella parte, nella seconda tabella. Difatti se noi andiamo ad eseguire questa cosa qua, vedete che io qui ottengo penarello e colorato. E su valore non ho niente perché non ho niente per questa chiave che esiste sulla seconda tabella. Andiamo a vedere l'anagrafica e i valori. Praticamente vedete qui, io qui ho acquarello, gesso, matita, penarello. Se noi andiamo a vedere l'anagrafica ho penarello, ok? Che di qua non c'è, ok? Invece ho penarello che di qua c'è e quindi emerge, quindi viene escluso con gli snull. Matita, penarello è una ripetizione, matita e gesso, vediamo matita e gesso c'è. Poi qui ci sarebbe un acquarello che sull'anagrafica non c'è. Però non riporta niente perché noi abbiamo fatto praticamente un left join. Quindi, quando facciamo questa operazione qua, tendenzialmente si utilizzano sempre solo i campi della prima tabellina. I campi della seconda non ha molto senso andare a metterli perché comunque noi andiamo ad escludere tutti quei record che vanno a merge right la prima e la seconda. Quindi il modo corretto di fare questa query qua è tutti i campi che voglio da qua, magari mi tiro giù il versato così, e faccio il snull sull'articolo. Quindi lo rieseguiamo, ecco che vediamo il nostro risultato. Solo per i record che non esistono nella seconda tabella. Ok? Questo è il tipo di join che ci permette di fare questa estrazione qua. Ovviamente se voglio fare il contrario, al posto di usare il left, ok? Usiamo il right, quindi andiamo giù qua e usiamo il right. Ovviamente se facciamo il right non dobbiamo più prendere i campi della prima tabella, ma dobbiamo prendere i campi della seconda. E l'articolo non della tabella valori, ma della tabella anagrafica, perché dobbiamo fare tutto all'opposto. Difatti se eseguiamo questa qua, vediamo che c'è acquarello che appunto sulla tabella dei valori c'è dentro acquarello, sull'anagrafica invece non c'è. Ok? Questi sono altri due sistemi per fare i join. Adesso andiamo a vedere quello un po' più particolare e questo si chiama full outer join. Questo tipo di join in access non esiste, però c'è una tecnica per andare a calcolarlo. Ovviamente c'è il full outer join che prende tutto dalla tabella 1 e tutto dalla tabella 2. E il full outer join dove esclude, prende praticamente tutto dalla prima e dalla seconda, ma dove la chiave emergia non riporta i valori. Ok? Per questa qui il concetto è uguale a quello che abbiamo visto qua. Difatti anche qua vedete che se vedete l'immagine che ho trovato su Google, mette where k a, o quindi dove il campo chiave è nullo, e dove il campo b, ok, è nullo. Quindi va proprio a fare l'is null. Allora, andiamo a provare a fare questa operazione qua in access. Allora, la prima cosa da fare è fare una query di left join. Adesso io l'ho fatto in tre passaggi, ma potete farlo anche in un unico passaggio. L'ho fatto così per semplificare a voi il processo mentale di capire questa cosa qua. Praticamente io qua prendo che cosa? Faccio un left join da una grafica a valori. E faccio il left join appunto, quindi tiro la chiave tra articolo e articolo e mi prendo la seconda voce. Quindi tutti i record di una grafica e solo i record di valori in cui i campi collegati sono uguali. E poi mi tiro giù l'articolo, la descrizione e il valore che è sulla seconda tabella. Perfetto, se io eseguo questo mi esce tutto della tabella anagrafica. Quindi ho pennello, penarello, matita, penarello e gesso. Ok, magari qui andiamo a fare anche un raggruppamento. Ok, c'è già e va benissimo. E qui praticamente ho tutte le mie informazioni. Ovviamente qui che cosa succede? Ricordiamoci perché campanello d'allarme stavo vedendo che qui ho sei record. Invece sulla anagrafica ne ho cinque. Perché succede questo? Perché ricordo che nella precedente lezione avevamo visto che quando entro con la chiave, ok, qui c'è un duplicato, ho due volte gesso e ho due volte penarello. Sul gesso, ok, allora sul penarello non c'è problema perché ho nero e nero. Difatti noi ci stiamo estraendo il campo valore. Quindi dai valori, ok, nella tabella valori il valore è nero e nero, viene poi raggruppato perché abbiamo fatto un group by. Però il gesso invece ha due valori, quindi in questo caso è corretto che vado a fare l'esplosione ed è corretto quindi che io abbia sei campi di output. Perfetto, abbiamo fatto il left join. Adesso praticamente facciamo la stessa identica cosa, ma facciamo il right join. Quindi che cosa facciamo? Ci prendiamo sempre i campi della prima tabellina, quindi l'articolo e la descrizione anagrafica e ci tiriamo giù i valori che è esattamente quello che noi vogliamo ottenere. Però facciamo il right join, quindi andiamo da qui a qui. Perfetto, e lanciamo la query. Vedete che io ottengo questo risultato qua, prendo tutto quello che c'è nella prima tabella e solo quello che corrisponde della prima tabella. Difatti qua vediamo che abbiamo un articolo che è bianco perché nella tabella valori ho anche l'acquarello, però nell'anagrafica non ce l'ho. Quindi in questo caso mi esce bianco, però riporto il valore che trovo nella tabella valori perché qui a quarello ho colorato, ok, mi sto tirando su il campo valore. Perfetto, fatta questa cosa qua, non ci resta altro che fare un'unione in modo che faccia l'aggregazione, una cosa che abbiamo già fatto. Qui cosa ho fatto? Ho fatto un'altra query dove praticamente gli ho detto guarda, selezionami tutto, quindi select asterisco from da questa query qua, quindi parto dalla left join e poi faccio union, ok, select tutto from la seconda tabella, ok, questa più questa. Se io vado ad eseguire questa tabellina qua, vado praticamente a aggiuntare tutte le informazioni. Difatti è un risultato di set record perché nella prima ne avevamo sei, nella seconda ne abbiamo ancora sei perché in entrambe la tabella è un'informazione che non esiste in una o nell'altra. Però qui vediamo che il gesso ce l'ho due volte, mattia, matita, penarello e sulla prima abbiamo sempre gesso, penarello, matita e penarello. Quando noi andiamo ad aggiuntare il tutto, ok, lui raggruppa tutte le chiavi che trova identiche al massimo, quindi a meno che non facciamo ovviamente qui e andiamo qua e ci mettiamo allora, ad esempio, ci mettiamo union all. Allora in quel caso lì andrebbe a fare i duplicati, vedete che in questo caso escono 12 righe perché trova le informazioni duplicate sia sulla prima query che abbiamo lanciato che sulla seconda. Infatti il gesso grosso 0.8 è presente sia sulla left che sulla right. Infatti se andiamo ad eseguirla vedete che ce l'abbiamo qui e ce l'abbiamo anche qui. Quindi per fare il full outer join che cosa bisogna fare in estrema sintesi? Bisogna andare sulla query e fare una query di selezione, quindi si fa appunto crea struttura query, ci tiriamo dentro la nostra informazione, drag and drop, facciamo la nostra chiave, ci facciamo il left join, ci tiriamo giù le informazioni che ci interessano, è il valore, mettiamo sempre il raggruppamento e fatta questa cosa qua andiamo su visualizza e facciamo visualizza SQL. Ecco che noi qua abbiamo praticamente la prima tabella. Non facciamo altro che copiarci queste informazioni, le mettiamo giù, qui in mezzo ci mettiamo union, ok, e al posto del, qui ci mettiamo l'union tra le due query, al posto del left qua ci mettiamo in right. Perfetto, fatta questa cosa qua, noi la eseguiamo, ecco che otteniamo lo stesso risultato, quindi possiamo tranquillamente lavorare per fare questo tipo di operazione, fare una query del left join tutta graficata. Quando abbiamo finito, appunto andiamo in struttura, ce la copiamo, attenzione sempre al punto di virgola qua giù che va sempre messo solo alla fine, lo potete anche mettere, quindi ci copiamo sempre tutto, cambiamo in right e qui mettiamo union. Così facendo, anche con Microsoft Access possiamo ottenere questo tipo di risultato. se vogliamo fare quest'altro qui, ok, che è sempre full outer join, dobbiamo andare su Access ma sulla query di left, adesso chiudiamo senza salvare un po' di cose che ne ho fatte troppe, sulla query di left e di right dobbiamo andare a dirgli, guarda, sulla query di left facciamo questo, dove is null, ok, e così otteniamo tutti i valori, ok, della tabella 1 dove non esiste nella tabella 2 e così ho praticamente questa cosa qua. Stessa cosa va fatta sulla write, adesso magari la salviamo, facciamo la stessa cosa sul write e qua ci mettiamo l'altra tabella però, quindi l'articolo dell'altra tabella, ci mettiamo qua is null, la salviamo e anche qua uscirà praticamente quello che c'era su acquarello e fatta questa cosa qua cosa succede? Che noi lanciamo sempre l'union che avevamo fatto prima ecco che noi otteniamo quello che c'è nella prima e quello che c'è nella seconda ma non quello che c'è in entrambe le tabelle quindi gesso, matita e penarello che sono presenti su entrambe le tabelle non compaiono poi nel nostro risultato e così abbiamo ottenuto anche il full outer join di questo tipo qua. ok, li abbiamo visti tutti ne manca uno particolare e questo è un tipo di estrazione un po' critica e sempre un po' pericolosa che tutti temono perché va a moltiplicare le righe in un modo pazzesco e i calcoli potrebbero andare alle stelle si chiama prodotto cartesiano che cos'è? allora ho fatto una query di selezione e praticamente che cosa ho fatto? ho praticamente tirato dentro sempre le nostre due tabelline non ho dato nessun legame alle tabelline però che cosa mi sono tirato giù? mi sono tirato giù i campi della prima tabella quindi articolo descrizione della prima tabella e poi mi sono tirato giù il valore e anche l'articolo della seconda tabella qui il versato magari lo possiamo anche togliere ok quindi ho campi di questa tabella e campi anche di quest'altra tabella però non vengono unite con nessun tipo di join vediamo che cosa succede quando eseguiamo questo tipo di query ecco qua che escono praticamente siamo partiti da una tabella che ne aveva 5 e l'altra ne aveva 6 e il risultato del prodotto cartesiano fa praticamente 25 praticamente che cosa succede quando si fa un prodotto cartesiano? quando non si fa un join lui per ogni riga ok va ad esplodere tutti i valori che trova sulla tabella numero 2 quindi lui per penarello colorato 10 di versato ok penarello colorato va a scrivere sulla destra anche tutte queste informazioni difatti se andiamo a vedere penarello colorato vedete che io qua trovo praticamente 5 righe ok trovo tutte queste informazioni qua se vado a vedere anche un'altra informazione penarello fino ok mi esplode anche questo con tutte le altre informazioni quindi anche qua ho 5 risultati però lo fa anche all'opposto di fatti noi vedevamo che qui c'era anche acquarello adesso facciamo un clic qua e facciamo un ordine a z vedete che anche qua ho penarello che si ripete 5 volte e anche per i valori che sono sulla tabella 2 lui va a ripetere per queste informazioni tutte le informazioni che trova anche nella prima quindi ecco che lui fa acquarello colorato e mi riporta giù tutte le informazioni ok non penso che dovrete mai fare una cosa di questo tipo che vi possa essere utile però sappiate che se la query va alle stelle e non gira più bisogna sempre stare attenti appunto a quello che avete fatto quando si va a fare questa cosa qua può essere pericoloso soprattutto se andate su un sistema magari che è un SQL che magari contiene tabelle anche grosse oppure anche sistemi magari che avete su web ipotizziamo una power bi piuttosto che un cool leak un business object e voi andate a fare un prodotto cartesiano queste cose qua vanno a fermare la macchina perché se le tabelle sotto sono grandi qui vedete 25 record sono esplosi 25 record su praticamente 10 righe che ho creato se io qua ne creo degli altri ovviamente vanno su in modo esponenziale il risultato va su in modo esponenziale quindi sempre attenti quando fate questo tipo di attività che esista il join non tirate mai dentro più di una tabella senza fare i legami altrimenti parte il prodotto cartesiano bene direi che con questa lezione abbiamo visto tutto dalla prossima andiamo a costruire qualche query quindi partiremo da un database della microsoft che ho scaricato e iniziamo a fare un po' di conversione di campi e vediamo un po' come fare diverse tipi di query di selezione convertendo le date vedendo le funzioni logiche e così via così impariamo un po' a fare anche un po' la trasformazione e la modifica dei campi dentro le query di selezione bene come sempre vi ringrazio molto per l'attenzione se il video è stato di vostro gradimento magari condividetelo nei vostri social così mi aiuterete a far crescere un pochino il canale confido molto sul passaparola e se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao ciao